E la Diocesi di Trani è in festa per la dedicazione della cattedrale, un appuntamento che coinvolge le 66 parrocchie e i 7 comuni dell'Arcidiocesi. Il senso di questo appuntamento lo spiega ai nostri microfoni l'Arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenso. La festa della dedicazione della cattedrale di Trani sta sempre entrando di più nel cuore dell'intera Diocesi. È vero, ormai sono 20 anni da quando Monsignor Picchieri ha voluto questo appuntamento per la Diocesi in occasione della dedicazione della nostra chiesa cattedrale. Ed è diventato un momento particolarmente importante, significativo e bello che vede la partecipazione di tutti i sacerdoti delle diverse parrocchie. Ci incontriamo molto volentieri per ringraziare il Signore del nostro cammino, del nostro essere chiesa e per domandare a Lui una rinnovata responsabilità nel sentirci pietre vive di questa chiesa. Noi fin dal giorno del nostro battesimo siamo stati inseriti nel corpo di Gesù che è la chiesa, come pietre vive. E con l'aiuto del Signore vogliamo dare il nostro contributo perché la nostra famiglia, la nostra chiesa diocesana possa camminare insieme e possa testimoniare, annunciare la bella parola, la bella notizia del Vangelo. E proprio questo forse è l'aspetto più importante. Ci si vede tutti quanti, i sacerdoti ma anche i rappresentanti di tutte le parrocchie e si fa finalmente comunità. Sì, si fa comunità, ci riscopriamo comunità. Vogliamo sentirci e testimoniare la comunione che sta alla base del nostro essere chiesa. Comunione che è un dono di Dio e vuole essere anche espressione della nostra responsabilità. Una comunione che poi per noi si traduce, come accennavo, ad un camminare insieme. Noi siamo reduci da un convegno ecclesiale e pastorale che abbiamo celebrato proprio la settimana scorsa con una grande partecipazione, direi significativa anche per il numero di persone che hanno risposto a questa convocazione. Per cui ringraziamo il Signore e gli chiediamo l'aiuto per continuare ad essere e camminare insieme come chiesa.